E queste poesie raccontano di fatti che sono successi negli ultimi anni, che mi sono successi e non vedevo più niente. Gli occhi nemmeno a piangere erano più buoni. Poi tu mi hai prestato gli occhi e sono tornato a vedere, ma sempre con dolore, sempre con dolore. Signora, perché lei ha chiesto l'affidamento esclusivo della bambina? Daniele, il padre della bambina, è una persona che non sta bene. Cosa da dire? La prossima settimana inizio un tirocinio come infermiere nella clinica dove siamo stati ricoverati, a Villa San Francesco. Punto 1, non dà confidenza a sti scirocchi. Io ti vedo, tu cerchi di darti un tono, di apparire normale, ma tu ce l'hai dentro, la bestia, tu hai l'anima nera. Tu, tua figlia, non la vedi mai più! Fatteme! Sai, la vera vita è ritrovare in ogni paziente quella traccia d'umanità che a te sta tanto a cuore. E te, cos'è bene la vita, c'è un tante. Maria, voi, il lavoro che amo. Hai capito il dottore? Tu, Alessandro! Però devi cominciare a credere più in te stesso. E ora devi cambiare veramente. Un reparto di psichiatria, tra noi e loro c'è una sola differenza. Il caso. di tutto il fisio. E ora devi dominare anche i punti tutti mesi. Già del tuojedice. Grazie a tutti.